Ciaras Comburgaesas e Ciaras Comburgaes. In on nov e in regal. Ots, il prim da scianert, avrinus quest regal tuttas e tuts en seman. Nus avein la possibilidade da comenzar cun inza genov. Nus tuttas e tuts sperain che l'on nov portia santat e contententia. A mingina e mingin da nus e da tutt la Svizzera. Deplorablamein, napudain nus bec comenzar l'on nov scocquai che nus avean spera. La pandemia è ancora dina pregenta ed ans metta alla prova. Ela fa che nus essan vulnerables e malsegirs, mingiatant e rbandonats. La pandemia ans a separa, ma ela nans a bec dividi. Nus nans lascian bec dividir. Er, se las maschrinas supann no surir, pudain nus guardar in il seils in a lauter et adlar in lauter. Ciaras comburgaisas e ciaras comburgais. Nem porta bec en c'è far da nos paiais que vos vivais e c'è lingua que vos discurris. E n'importa bec che vos essers giovin o velli, vaccinar o bec vaccinar, il Cusell federal ha in orelha verta per vos. Iau as pos garantir. Il Cusell federal c'apecha vos quitats e vossas temas. Prendendo sias decisiones, s'orienta il Cusell federal adina all'interesse general della Svizzera e della sia popolazione. Nus tuttas e tuts avein diferentas raguix, mentalità ed esperienchas. Nus essan dalla bassa, da las montonhas e dalla Svizzera dal Cid. Nus essan dalla città e dalla champagna, dal centre e dalla periferia. Malgrà questas differenzias, anz un eshabler da pli che quaiche anz separa. Nossa diversità è in riccezza. E questa diversità dat forza alla Svizzera. Questa diversità è tentata in una sfida permanenta per mingina e minginda nus. Nossas diferentas linguas, culturas, religiuns e nostri diferenti movimenti politici procurano per un dialogo che è mingiatante di già creabile. Diversità pretenda engajament. Diversità vuol dir da s'ammettere in la situazione d'un saggi autore. Diversità vuol dir da desister d'un saggi, da far compromisso. Er quai dat forza alla Svizzera. Per l'onnof già vischau che nus vivian puspeplifici questa diversità, che nus anz avvicinian in all'autr e che nus rispecchian autras opinionns, er che nus avain ideas diferentas. Gishten in temp che la polarizzazion schmanaccia, stuain nus daventar conscienz da quai che anscolia, da quel che è caratteristico per la coesione nazionale. E insieme, essa nus la Svizzera. Ciara scomburgaisas e ciars scomburgais. Coesione e passione per la diversità. Uschia pudain nus domagnar las sfidas dell'onnof e giudaire cuminaivlamain il smomente legraivels. Iau guarda con confidenza vers il futur. L'uman ha andina domagnà il combat perpeten conter virus e conter pandemias, e quai veni ad esser uschia er questa giata. Nus dovrain pazienza. Ensemen, veninus però agudagnar quest combat. Per l'on duamili e vengiadus, as javi xau, buona sanatad, energia e contentienza. Bun di, bunon!